E anche il Bimana, lui diceva una cosa così interessante, affascinante, che questa letteratura abbia tutti questi dettagli. Così vediamo che anche un libro spirituale ha delle informazioni che sono al di là di quella che è la comprensione della scienza materiale. Così questa è la nostra buona fortuna, di avere questa buona associazione. E perdere questa associazione dovuta alla speculazione mentale, e diventare offensivi verso noi stessi o verso gli altri, è una cosa così pietosa. Perché sappiamo da dove noi siamo venuti, e quindi possiamo immaginare dove potremmo andare se cadiamo. Così è la nostra scelta non andare lì. Così cosa facciamo allora? Parliamo di Krishna durante il giorno o parliamo di nonsensi? Parliamo dei nostri desideri materiali o di come possiamo superare questi desideri? Dobbiamo essere onesti con noi stessi, dove siamo, dove siamo stati, dove potremmo andare, e dove vogliamo veramente andare. Ma dobbiamo essere sicuri dove veramente vogliamo andare. Guardando quello che facciamo durante il giorno, quello di cui parliamo durante il giorno, quello che la nostra mente pensa durante il giorno. E questo mostra in realtà dove noi vogliamo andare. Ma quello è veramente dove noi vogliamo andare. Se non abbiamo fede nel controllare la mente, controllare i sensi, e seguiremo il sentiero che Kapiladeva sta spiegando in maniera molto specifica a sua madre. E Shila Prabhupat dice proprio che anche se uno va in una chiesa, in una moschea o al tempio, dove lui arriverà non è garantito. Quindi dobbiamo andare avanti nella coscienza di Krishna, associarsi con il canto del santo nome e con gli altri. Abbiamo la chiave, dobbiamo usarla, e uscire dalla prigione. Così, anche se sono stanca un pochino dai meeting, ma quello che oggi è questo, questa è la nostra lezione che dobbiamo imparare. Introspezione E comprensione di quella che è la nostra posizione, vedendo attraverso le istruzioni di Kapiladeva. E i mezzi che Shila Prabhupat ci ha così chiaramente donato. E come utilizziamo questi mezzi? Leggiamo ogni giorno? Cantiamo attentamente ogni giorno? Ci associamo in maniera appropriata ogni giorno? Solo noi possiamo sapere questo. Mi è stato chiesto di finire alle 8 e mezza, ora sono le 8 e un quarto, ci sono ancora 15 minuti. Se qualcuno ha delle domande? Buone? langsam? Ma ora sono le 6 giorni. Sì? Ok. Grazie. 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 Grazie a tutti. E ci sono i devoti che cercano e stanno andando tra di loro, danzando. E vedono che mentre danzano che c'è qualcuno che alza lo sguardo, allora gli danno un libro, così che possono avere questa conoscenza per sapere. E' importante per i devoti trovare qualcuno che comunque in un modo o nell'altro è vicino al risveglio. E dare a loro le chiavi, il canto del santo nome e il libro. E' il dovere del devoto diventare esperto in questo. E se non trovate nessuno interessato dovete renderlo interessato. Bisogna essere creativi nel trovare modi come fare interessare le persone. Ad esempio abbiamo Somaka Swamy che lui aveva questo bus viaggiando di Sankirtan e ad esempio loro facevano delle competizioni per mangiare. E cos'erano i regali? Un libro. E così possiamo vedere, mangiavano prassada e ricevevano un libro. Così Shila Prabhupada sempre ci ha insegnato a tempo, luogo e circostanza. E così i devoti devono essere, devono osservare. Shila Prabhupada read to a certain extent, at least the headlines in the newspapers to know what was going on. E anche Shila Prabhupada vediamo, lui leggeva comunque perlomeno i titoli dei giornali per essere informato, sapere cosa succedeva. E li utilizzava anche come esempi nelle sue lezioni a volte. Anche Nixon, che è Presidente della Stata dell'America, lui lo utilizzava nelle sue lezioni come esempio. Così i devoti in un modo o nell'altro devono essere un pochino informati. Ma allo stesso tempo non dobbiamo diventare così coinvolti in questo. Dobbiamo guardare a tutto, ma attraverso il filtro del Bhagavatam. If we can. Why doesn't that surprise me? Allora, a mio punto mi chiedevo se è il momento giusto per, quando le persone sono così vicine ormai al precipizio per dare gli spaghetti oppure c'è qualcosa altro. Diceva, ad esempio, in America abbiamo il Presidente dello Stato, che sono degli scienziati consiglieri, di cui uno ha scritto un libro. E questo libro dice che la terra praticamente può essere popolata solo con un bilione di persone e tutti gli altri devono essere uccisi. E nelle 1600 pagine lui descrive come uccidere tutti gli altri. Con degli additivi, come nel cibo e così, tutto viene descritto. E questa è la ragione per cui Shila Prabhupada ha fondato l'Istituto Bhaktivedanta per gli scienziati. E c'è un libro della... Ripensando Darwin. Ma non tutti possono fare questo, così abbiamo anche il contesto degli spaghetti. E così abbiamo bisogno di predicare alle persone che hanno comunque un cervello, che non hanno troppe cose, troppo additivi all'interno. Così i devoti possono utilizzare questi libri come... e leggere anche questi libri come Ripensando Darwin. Perché come Brahmapurta ha detto dobbiamo raggiungere ogni livello di persone. E Shila Prabhupada voleva che predicassimo ai ministri, ai ministeri del governo. E perché loro sono l'intelligenza. Sebbene non sono intelligenti, loro sono comunque l'intelligenza di questo mondo. E sono coloro che lo controllano. Così in un modo o nell'altro dobbiamo fare in modo che questi libri raggiungano anche loro utilizzando la nostra intelligenza. E dandogli un iPod con un libro all'interno. Is that better? Other comments or questions? Qualc'altra domanda o commento? You have five minutes? Aride? So, my understanding is that we don't have the key for all the political problems, economical problems. Yes, we can chantare Krishna in the temples. Other comments? Sometimes we can see that even just to agree between ourselves as the vote is difficult. So, what to say? Well, in reality, we do have the answers to all the economic problems in the world. In reality, noi abbiamo la risposta a tutti i problemi economici e politici del mondo. Just because we don't follow it perfectly, doesn't mean that we don't have the answer at hand. Non perché noi non seguiamo in maniera perfetta, significa che non ci sono tutte le risposte all'interno di qua. Noi siamo ancora nell'ospedale. Stiamo ancora prendendo la medicina. Ci stiamo ancora curando noi stessi dalla malattia materiale. E questa è la ragione per cui l'associazione è così importante. Non dobbiamo associarci solo con la nostra mente materiale e i nostri dubbi. Dobbiamo diventare così forti nella nostra fede e nella nostra conoscenza, che anche se vediamo le imperfezioni attorno, anche nella nostra stessa società, non perdiamo la visione e l'entrazione che Srila Prabhupada ci ha dato tutte le risposte a ogni problema che questa società e le altre società, le società universali, le società interplanetari, le società interplanetari, le società interplanetari, le società interplanetari. Non dobbiamo perdere la fede che tutta la soluzione, tutti i problemi per il nostro tempio, per il mondo materiale, per l'universo e ancora in generale per tutto, si trovano all'interno della trasmissione e delle istruzioni che Srila Prabhupada ci ha dato. Abbiamo bisogno di diventare esperti nei libri di Srila Prabhupada. Possiamo discutere delle spiegazioni. Dobbiamo cercare di comprendere dove abbiamo dei dubbi. Non possiamo pretendere di comprendere tutto. Dobbiamo comprendere quelli che sono i nostri dubbi e le nostre debolezze. Magari non vogliamo esprimerli a tutti quanti, ma devi trovare uno o due devoti di cui tu hai fede, esprimere quelli che sono i tuoi dubbi e cercare di lavorarci sopra. E quando noi a volte possiamo tirare fuori i nostri dubbi e parlarne e realizziamo quanto... Silli? Silli? Silli, ridicolo. E possiamo vedere quanto sono ridicoli. Is that ok? Ok, it is now. One minute! Any last one minute question, comment? C'è un minuto? Breve? No. Hmm? Ok. Va bene. She said she had a question, but the question could be asked in maybe a minute, but she didn't know about the answer. It's... Sentiamo la domanda. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. ho capito ho capito ho capito la domanda the point is like it's okay like for the devotees in the temple but sometimes there are devotees that they can stay for some time in the temple but most of the time maybe they have with the family or outside so we have association and it's not so easy to maintain our devotional practice what can you advise to us besides following the program and besides reading the books and besides reading the books you need to think about Krishna during the day you need to see the panorama of the life around you as coming from Krishna in some way che in un modo o nell'altro comunque sta venendo da Krishna nothing moves in this world without Krishna sanction perché nulla si muove in questo mondo senza la sanzione di Krishna you need to see Krishna in everything he's there so when you see the things around you in the world in your life so when you see the things around you in the world in your life cerca di vedere dove è Krishna in questa cosa sempre chiediti a te stesso dove è Krishna in questa situazione dove è Krishna in questo scambio dove è Krishna in questa relazione magari non avrai la risposta ma perlomeno la domanda ha sempre Krishna all'interno e così quando arrivi poi a stare con i devoti avrai delle domande da fare e poi sempre avere con te dei piccoli libri per qualcuno che è interessato glielo dai perché in realtà ci sono centinaia e centinaia di devoti nelle persone che tu incontri ogni giorno diventa una spia e dai libri a tutti quanti una spia per Krishna Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Grazie a tutti